Professionalità, passione, competenza, la Polisportiva Santa Maria è pronta ad accogliere tuo figlio per le attività di base della stagione 2016-2017. Dal 1 settembre aprono le iscrizioni alla scuola calcio. Tecnici qualificati si prenderanno cura dei vostri figli che saranno suddivisi nelle categorie primi calci, pulcini, esordienti, giovanissimi ed allievi. E da quest'anno novità assoluta, spazio anche al calcio femminile. Per tutte le info consulta il sito www.polsantamaria1932.it oppure telefona al 333 40 36 406.